Comentiamo e speriamo di poter ricoinvolgere i cittadini in questa esperienza di partecipazione attiva all'amministrazione. Ognuno deve svolgere le sue funzioni sulla base dei ruoli che ciascuno ha. È evidente che il ruolo di amministratore rispetto a noi, le scelte sono nostre, le responsabilità sono nostre, ma credo che ciascun cittadino sia felice se vede realizzare un progetto positivo per la sua città, magari su un'idea propria o su una ipotesi che egli ha.